...dello studiore delle capiterie dello sport, non solo perché lo è stato nel 2015, ma perché lo è stato nella storia dell'Italia. E che quindi questo continuo prosegua e che voi ne siate dei autorevoli testimoni. I nostri ragazzi torinesi, piemontesi, c'è un'associazione sportiva torinese che è forte, ma immagino anche, spero che si possa diffondere attorno a tutto Piemonte, i nostri ragazzi italiani faranno certamente una bella figura, ma è l'occasione anche per rimarcare l'internazionalità di questo sport, l'occasione di far conoscere i nostri territori, i nostri impianti, ma anche le nostre terre, il resto del mondo, ospitarli, perché diventi sempre più terra di sport, di passione per tutto il mondo e perché no anche di economia legata allo sport. Quindi buon divertimento, però sicuramente a trovarvi durante l'iniziativa, durante le gare, spero che facciate brillare qualche nostro talento, ma soprattutto che teniate alto l'agonismo e lo sport di questa nostra terra.